Maurizio Mandrelli, Andrea Cerquetti, Gerardi Cartoedit Città di Castello. Paritiamo da Maurizio Mandrelli, vice coach della Gerardi Cartoedit Serie C femminile. Rientro dopo le festività natalizie, analizzando un po' quello che sta succedendo. Il Città di Castello, il tuo Città di Castello, si sta comportando bene. Sì, tolta la prima partita, ci sono stati dei problemi del rientro agonistico da parte delle ragazze. Poi si sta ritrovando la forma migliore. Sabato con San Mariano abbiamo dimostrato ulteriormente le nostre qualità. e vediamo di andare avanti così, chiudere il girone di andata in questa condizione e tenere la posizione in classifica dove siamo ora. Prossimo turno, sulla carta può sembrare, ma solo sulla carta, una partita abbastanza facile, però tu mi insegni che di facile in questo campionato non c'è nulla. Certamente, e sulla carta, come dici tu, è una squadra facile da affrontare vista la posizione in classifica che è proprio giù nei bassi fondi. Poi è tutto da giocare, specialmente per l'ambiente che troveremo, una palestra piccola e del tifo caloroso che incita dal primo all'ultimo minuto le proprie ragazze. Un'ultima domanda, sempre parlando di Serie C, il primo obiettivo lo state raggiungendo, le giovani crescono e crescono bene. C'è qualche passaggio a vuoto, ma ci può stare, dai? Ma indubbiamente sì. Comunque le ragazze stanno crescendo sotto la guida di coach Calogeri, il quale sta facendo lavorare molto bene tutto l'organico, dalla prima all'ultima, senza mai differenziare o avere, diciamo, delle preferenze. Andrea Cerqueti, palleggiatore della Gerardi, Carto Edit, Serie B2 maschile. Allora, commentiamo questa vittoria al tie-break dello scorso. turno, poteva essere fatto qualcosa di meglio, comunque due punticini che allungano la classifica. Però, guardando il bicchiere mezzo vuoto, avete scalato un paio di posizioni. Sì, allora, commentando la partita di sabato, diciamo che io la vedo più come un'opportunità persa, nel senso che avanti 2-1, avendo vinto due set in maniera abbastanza agevolata, avanti il quarto set, così, insomma, siamo stati un po' polli, passami il termine, a concedergli sto quarto set e quindi a concedere un punticino che a noi sarebbe servito tantissimo. Però, d'altro canto, era un campo difficile, trasferta molto lunga. Voglio guardarla in maniera positiva e, insomma, pensare che sia stata alla fine comunque una bella vittoria che comunque dà morale dopo una brutta sconfitta in casa con Offida. C'è comunque da mantenere alta la concentrazione perché il prossimo turno può essere visto in due modi, no? Se l'atteggiamento del Città di Castello sarà un atteggiamento aggressivo, probabilmente non ci saranno problemi. Se invece avrete ancora questi maledetti passaggi a vuoto che un po', Andrea, lasciamelo dire, vi stanno condizionando, beh, sarà una gara tutta da giocare. Sì, senza dubbio. Sulla carta sicuramente non dovrebbe essere una partita complicata per quanto ci riguarda. Però ormai abbiamo constatato che le partite le facciamo sempre noi, sia nel bene che nel male. Quindi bisogna stare attenti, concentrati, lucidi e soprattutto costanti.